Il Consorzio Universitario e la prestigiosa sede di Palazzo Moncada si salvano non spostando come birilli gli iscritti di Ingegneria Elettrica, ma attivando e promuovendo nella sede di Corso Vittorio Emanuele attività universitarie e para-universitarie di informazione di alta formazione che rafforzino la presenza nel territorio del Consorzio e le sue ragioni d'essere. Sono queste le riflessioni e le precisazioni del consigliere di Forza Italia, Alessandro Mayra, che prende una netta posizione sul trasferimento del corso di laurea stabilito giorni fa dal Consorzio Universitario. La questione del trasferimento del corso di Ingegneria Elettrica dalla sede attuale di Via Real Maestranza alla sede del centrale del Consorzio Universitario di Palazzo Moncada è una questione che è stata negli ultimi settimane oggetto di numerosi comunicati e interventi che però secondo me, secondo il mio avviso, hanno provocato un'ingente confusione. Ho ritenuto necessario e doveroso intervenire di nuovo sull'argomento per cercare di chiarire una volta per tutte la mia posizione e la finalità del mio intervento e di quello di tutti i componenti della Quinta Commissione che è un intervento mirato esclusivamente alla risoluzione del problema e a trovare una necessaria sintesi tra le varie esigenze che si sono manifestate che sono venute fuori dal recente confronto con l'università quindi col Consorzio Universitario e con gli studenti di Ingegneria Elettrica. Esigenze che non devono e non possono contrapporsi null'altra ma che a mio modesto avviso e avviso anche degli altri componenti della Commissione devono essere viste in una visione di insieme e parlo in principal modo del diritto allo studio ma parlo anche del necessario rafforzamento dell'attività del Consorzio Universitario attraverso una più efficiente ed efficace pianificazione che attualmente non abbiamo riscontrato quindi a nostro avviso dovremmo smetterla di giocare al gioco del più forte perché chiunque vinca a questo braccio di ferro sicuramente vincerà solo al 50% il Consorzio Universitario e la sede di Palazzo Moncada potrà essere salvata solo attraverso una più approfondita efficace pianificazione delle attività universitarie e non invece spostando come birilli i studenti di ingegneria da una sia dall'altra.